Ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao, come state? Bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono SMR Marty, come state? commentate, commentate, allora, finalmente il video che vi avevo detto che avrei fatto, quello della vacanza, allora, dove sono stata? in che periodo? allora, sono andata in ferie l'11 settembre, abbiamo preso un volo a destinazione, ovviamente io e il mio fidanzato, destinazione Firenze quindi abbiamo preso questo volo l'11 settembre, direzione Firenze, direzione Firenze, siamo stati lì fino al sabato, quindi fino al 16 di settembre e abbiamo visto, siamo stati due giorni a Firenze Centro, perché praticamente siamo stati una settimana appunto a vivere da mia zia perché comunque il matrimonio ci aveva un po' destabilizzato, quantomeno mi aveva un po' destabilizzato economicamente e di conseguenza ho preferito, abbiamo in comune accordo preferito dormire da mia zia la mattina alle 7 e mezza, già eravamo fuori per prendere il treno diretti a Firenze Centro abbiamo visto i fisi, ovviamente vi lascerò le foto nel mentre che parlo, perché praticamente registrando con l'iPhone diciamo che non ho modo di poter farvi vedere in un altro modo, volevo prendere il tablet, ma il tablet è scarico volevo registrare adesso, perché posso, e quindi ho registrato, vabbè, farò così quindi abbiamo visto gli uffizi, bellissimi ragazzi, cioè, allora, io non ne capisco molto d'arte però amo o amato, perché già questa è la seconda volta che ho fatto gli uffizi ho amato e amo tutti i ritratti della famiglia, dei medici, poi belle anche tutte le varie statue, eccetera, veramente è molto bello, per chi ne capisce d'arte noi eravamo senza guida, ovviamente è ancora più bello con la guida comunque che, ecco, ti fa un po', ti aiuta a capire meglio sia i quadri, gli artisti, il perché di quel quadro in quel colore, in quel modo, ovviamente da soli capivamo quel poco, ecco questo subito la mattina appena siamo arrivati, poi abbiamo visto, vabbè, Ponte Vecchio, bellissimo l'abbiamo visto anche la sera, perché praticamente a cena siamo rimasti lì l'abbiamo visto la sera, quindi praticamente tutte queste giochillerie che ci sono sul Ponte Vecchio la sera non chiudono tipo con una chiave e basta e lasciano la vetrina come si fa in tutto il mondo, credo ma pensi utilizzano queste lastre di legno proprio e non fanno vedere più nulla praticamente diventa tutto di legno, cioè bellissimo, veramente cioè per chi forse ci abita è scontato, per chi tipo non ci abita, che è tipo un turista è veramente qualcosa di bellissimo poi abbiamo visto alle 3, siamo stati alle 15 a Palazzo Pinti perché praticamente ho preferito prenotare tutto prima perché a quanto mi era stato detto cosa che poi si è rivelata stra stravera, è che tipo c'è una, a parte il vento che lasciamo perdere qui io avevo Palazzo Pinti e Giardino di Popoli, anche qui vi lascio foto o video comunque bellissimo come posto, davvero io Palazzo Pinti lo preferisco ai uffizi, vi devo dire la verità ma da quando ho visto entrambe le cose ho sempre preferito Palazzo Pinti non lo so, è più proprio il mio stile, cioè è molto così e i lampadari, cioè non so, forse è un po' più semplice come tipo di arte capirlo rispetto agli uffizi che comunque sono tutti quadri invece lì troviamo quelle sale bellissime dove uno viaggia con la mente e pensa qui, chissà se ci facevano congressi o ci facevano balli o eccetera veramente, veramente, veramente bello ragazzi, se chi non è di Firenze, della Toscana chi non c'è ancora stato, andateci perché secondo me veramente ne vale la pena e poi veramente in una giornata parla, una giornata e mezzo, due proprio se vogliamo, ecco essere un po' più lenti in due giornate in Firenze si vede benissimo a pranzo siamo stati a mangiare il pranzo, diciamo, della giornata in cui siamo stati a Palazzo Pinti uffizi, siamo stati a mangiare a Trattoria Popoli ve lo straconsiglio praticamente noi abbiamo deciso di munirci di The Fork e cercare quindi tutti i ristorantini che comunque aderissero a tipo 20, 30, 50% e Trattoria Popoli quel giorno aderivo al 50% a pranzo quindi siamo corsi e siamo andati lì abbiamo mangiato benissimo io ho preso un'insalata di pollo e il mio fidanzato ha preso ovviamente la pasta con ragù di cinghiale cosa che a me non piace, onestamente poi siamo stati a cena da signor vino abbiamo mangiato benissimo, veramente abbiamo mangiato, abbiamo preso praticamente dei taglieri c'è un taglieri di salumi e io poi ho preso il vino, vabbè, le solite cose poi abbiamo mangiato un tiramisù spaziale non me l'aspettavo poi parlando con il marito di mia tazia e comunque lei è, lui è fiorentino, fiorentino, fiorentino proprio toscano, donk mi diceva che lì si mangia molto bene però non aderivo a The Fork ma noi a cena ce ne siamo altamente fregati e il giorno dopo siamo andati dall'altra parte di Firenze perché siamo stati, siamo super giù dalla parte di più nel pomeriggio poi fino alla sera dalla parte di signor vino la mattina seguente abbiamo ripreso il treno e siamo stati a Santa Maria Novella però non siamo entrati perché avevamo organizzato una colazione con i cugini del mio fidanzato che abitano a Firenze e sono venuti fino a Firenze per fare questa colazione insieme che carini hanno fatto tipo un'ora di macchina e abbiamo fatto colazione da Starbucks però abbiamo visto Santa Maria Novella da fuori anche il Duomo da fuori in verità volevamo entrare al Duomo ma la confusione che io veramente non vi dico c'è una fila, una fila, una fila infinita quindi abbiamo rinunciato anche perché alle 16 dovevamo essere dovevamo tornare indietro e prendere il treno anzi già alle 16 dovevamo essere a Calenzano fuori dalla Firenze e prendere il treno a Santa Maria Novella poi il 14 non abbiamo fatto in verità nulla a parte andare appunto a fare shopping nel pomeriggio a Barberino di Mugello dove ho preso tutte le cose che vi ho fatto vedere nel video precedente il 15 siamo stati a Roma siamo stati a Roma e eravamo io il mio fidanzato è una delle mie due zie che voleva vendere con noi perché Roma non l'aveva mai vista con la scusa che noi eravamo lì si è giunta ci siamo divertiti un sacco a parte io che avevo i piedi cotti e tipo zoppicavo tutto il tempo abbiamo visto il Colosseo vi lascio sempre tutte le foto qui il Colosseo abbiamo fatto in assoluto un tour veloce di poche cose ecco Colosseo, Piazza del Popolo Piazza di Spagna il Pantheon infatti abbiamo mangiato vicino al Pantheon la Rotonda si è mangiato abbastanza bene e abbiamo pagato il giusto il Pantheon la Rotonda poi cosa abbiamo visto? i fori imperiali Piazza Venezia Palazzo Venezia abbiamo fatto tutto da fuori e l'unica cosa che abbiamo visitato era una chiesa gratuita che ci aveva consigliato un ragazzo di un bar poi verso le 15 abbiamo fatto tutto questo tour veloce già alle 14 così no andrò nelle 15 e alle 14 verso le 16 verso le 16 eravamo in via del corso dove ci sono praticamente tutti questi negozietti c'era H&M e altri degli outlet dove vendavano tipo le cose al 70% comunque outlet di lusso tipo così luxury una cosa del genere e ci abbiamo fatti tutta via del corso siamo entrati in ogni negozio praticamente io ho acquistato da Sephora un un rossetto tipo di Clarence e ho regalato tipo mia sorella un mascara di 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 Ariana Grande tipo tutte ste cavolate qui e li ho comprate lì a Roma e poi alle 18 così siamo arrivati in stazione termini comunque vi devo dire che all'andata eravamo siamo arrivati pure a stazione termini abbiamo perso la metropolitana andata e ritorno ragazzi io vi giuro che la paura che ho avuto a stazione termini io in metro o comunque in metro io non ho mai avuto così tanta paura in vita mia praticamente c'era una signora romana che ha litigato con una di quelle zingare odiose e mi ha fatto paura perché la signora ha preso un pugno perché aveva l'occhio rosso e quindi sicuro ha preso un pugno perché tipo si lamentava ha detto tipo il romano tipo la polizia sa che queste queste puntini puntini stanno qui perché non le prendono quindi questo poi tipo la metro strapiena queste zingare che all'interno proprio della metro andavano girando ragazzi veramente una cosa che mi frena tantissimo nel dire ci tornerò e appunto questo mi ha messo troppa ansia troppa paura tenevo la borsa così cioè con il rischio veramente di poter prendere un pugno se non davo qualcosa opponevo resistenza cioè mi dispiace perché comunque è una città davvero bellissima per quel poco che ho visto ma con questa situazione quantomeno io non credo di tornarci o comunque cercherò in qualche modo di muovermi assolutamente in auto perché non voglio prendere mezzi per il resto davvero una bellissima esperienza poi il 15 il 16 siamo tornati abbiamo preso il treno per Bologna perché abbiamo preso il treno da Bologna quindi da poi siamo tornati a casa vi lascio qualche foto del bellissimo panorama che abbiamo visto da Prado a Bologna abbiamo preso il Marconia Express siamo arrivati proprio all'interno dell'aeroporto ragazzi questo è stato il mio piccolo viaggio di una settimana ho avuto un'altra settimana di ferie ma l'ho passata a casa e la sto ancora passando a casa gli ultimi tre giorni ecco cioè giovedì venerdì sabato domenica gli ultimi tre o quattro giorni di ferie e sto passando praticamente malata quindi figuratevi per il resto mi è piaciuto mi sono rilassata mi sono divertita l'importante è questo tornerò a Firenze per le ferie le prossime ferie invernali a caso mai vi farò dei vlog se vi può interessare detto questo ragazzi io vi saluto e vi mando un bacio enorme ciao ragazzi ciao 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 ciao